E adesso un premiatore d'eccezione per un premio veramente d'eccezione. La categoria, non è una categoria, è un premio speciale per il cinema in tv. Il premiatore è Totò Cascio. Totò, ciao! Allora, sei emozionato? Sì. Eh, tu lo sai chi dovrai chiamare adesso? Eh, lo so. Lo sai? Allora, vogliamo subito passare a questo momento così importante, ufficiale. Apriamo la busta, dai. Sì. Dai, forza. Sì. Ecco. Allora, premio speciale di tv, sorrisi e canzoni per l'attore internazionale più popolare. Silvestre Stallone. Silvestre Stallone. Allora, come on. Emozionatissimo il nostro Totò che ci aveva confidato che Sylvester Stallone è il suo mito. Siccome so che Sylvester deve fare una dichiarazione abbastanza importante, io non vorrei trovarmi nei guai. E allora, Corrado mi ha promesso di aiutarmi. Vieni Corrado, tu hai promesso che mi avresti aiutato qui? Per la traduzione? Per la traduzione, sì. Senz'altro. Eh no, perché? Oh, no, no, ok, ok. Allora, lui parli pure tranquillamente in inglese. Cristina, venga a tradurre per favore. L'avevo detto che avrei aiutato, ho chiamato Cristina che traduce benissimo. Allora, domanda. Prego. Io vorrei chiedere a Stallone quanti chilometri ha percorso nei suoi film. Perché è una curiosità anche questa, credo. Quanti chilometri ha fatto nei film? È andato un po' più lontano di Cristoforo Colombo, ha detto. Ah, ecco, io vorrei che Stallone cortesemente nei suoi film per finzione è un violento, cosa che credo adesso abbia abbandonato un pochino come genere. Se potesse invitare le persone che assisteranno ai campionati di calcio a fare i Rambo o i Rocky in casa, ma allo stadio facessero le persone per me, i non violenti. E' un po' più importante. E ho detto che anche lui una volta ha provato a giocare il calcio e sa quanto può eccitare questo gioco, però ecco vuole che la gente giochi con il cuore e non con la violenza. Certo, c'è Totò che voleva fargli una domanda, è un suo eroe come l'eroe di tanti e tanti, grandi e piccoli. Totò wants to ask you a question, you are like a hero for him, like you are for many children in Italy, so let's see what he has to say. Perché non facciamo abbraccio di farro? Non facciamo abbraccio di farlo, non facciamo abbraccio di farlo. No, he wants to try that. Ok, ha detto che vuoi provare. Ready? Bye bye! Grazie a Silvester Stallone